Matti Costruzioni Dal 1958 immobili di pregio in oltre Popavese e nella riviera Ligure Come le nuove ed eleganti palazzine con finiture prestigiose e personalizzabili Le ville singole e bifamiliari con impianto termico all'avanguardia La prestigiosa Villa Manila a pochi metri dal mare di Varazze Costruzione in zone centrali e residenziali di pregio Ampio capitolato, massima efficienza energetica ed assistenza del cliente a 360 gradi Contattaci, ti aspettiamo a Voghera in via Meucci 5 Sabato 15 luglio 2017 alle ore 10 presso la chiesa dei Barnabiti di via Garibaldi a Voghera Si terrà la Santa Messa e l'orazione commemorativa dedicata al ricordo di Gianna Muset e Angelo D'Agostino I coniugi vogheresi vittime innocenti dell'attentato terroristico d'inizio dal 14 luglio 2016 Alla cerimonia che sarà presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Vittorio Francesco Viola Vescovo della Diocesi di Tortona, saranno presenti anche i familiari delle vittime A messa conclusa dalle ore 11 si terrà l'intitolazione dei giardini di via Garibaldi Di fronte alla chiesa dei Barnabiti Saranno presenti tra gli altri il sindaco Carlo Barbieri e l'assessore alla cultura Marina Zaretti